Preparati, perché da settembre la fantastica Carmelita dirà addio ai suoi adorati fan. Addio alle dita sul cuore e alla conduzione di Pomeriggio 5, che ha animato per ben 15 anni. Mediaset ha ufficialmente annunciato la notizia ieri, mettendo fine alle speculazioni che giravano da settimane e segnando la fine di un'era. Barbara D'Urso, con tutta la sua grinta, bellezza e appeal, è diventata una leggenda dell'azienda. Ha fatto il suo ingresso trionfale su Telemilano, presto diventata Canale 5, giovanissima e dopo un lungo periodo in Rai, è diventata un punto di riferimento per Mediaset. Per 20 anni, a partire dal 2003 quando ha preso in mano le redini del Grande Fratello, da Daria Bignardi, Barbara ha dominato la televisione, con programmi di grande rilevanza, spesso anche due o addirittura tre contemporaneamente. Un esercito di fan, che aveva appuntamento a settembre per la nuova stagione, la seguiva fedelmente nel pomeriggio, tra cronaca, attualità, aiuti alle persone, storie di vita quotidiana, pettegolezzi e ospiti provenienti da altre trasmissioni Mediaset. In un comunicato, Mediaset ha ringraziato Barbara per la sua professionalità e il grande lavoro svolto alla guida del programma pomeridiano. Hanno precisato che il suo contratto è in corso fino a dicembre 2023, ma Canale 5 e Barbara D'Urso si metteranno alla ricerca di nuovi progetti. In poche parole, il contratto non verrà rinnovato e molto probabilmente non le verranno assegnati altri programmi nei pochi mesi rimanenti. Cosa farà la nostra amata presentatrice in futuro? Non possiamo saperlo ancora, ma una donna con la sua grinta non si lascerà certo abbattere. Troverà sicuramente nuovi spazi in tv. Negli ultimi mesi ha persino fatto ritorno al teatro con la commedia Taxi a due piazze. Oltre alla sua carriera televisiva, ha recitato in serie tv, film e scritto numerosi libri. E intenzioni verranno svelate durante la presentazione dei nuovi palinsesti Mediaset che si terrà martedì a Milano. Insomma, lascerà un vuoto nei cuori dei suoi fan. Ma bisogna ammettere che le scelte seguono la direzione tracciata da Pier Silvio Berlusconi, il quale ha spiegato più volte che un certo tipo di infotainment che mescola cronaca nera, Rosa e Pettegolezzi non rientra più nella strategia dell'azienda. Negli ultimi anni, Barbara ha condotto programmi domenicali, pomeridiani e serali, portando l'ultimo a raggiungere livelli di popolarità mai visti. T. Tuttavia, due anni fa l'azienda ha preso una direzione diversa e ha deciso di trasmettere in quel giorno festivo programmi come Amici di Maria De Filippi e Verissimo di Silvia Toffanin. Nel passato, a Barbara sono stati affidati molti show, inclusi Il Grande Fratello, Mattino Cinque, La Fattoria, Lo Show dei Record, La Pupa e Il Secchione. Nell'ultima stagione si è concentrata esclusivamente su Pomeriggio Cinque. Insomma, una lunga storia ventennale che si conclude con poche parole e tanti bei ricordi. Vuoi scoprire di più? Iscriviti al canale per la prossima news.